Sono Luca Tuseino, ho 26 anni e sono di Torino. Marketing e comunicazioni d'impresa. In generale ho studiato diverse cose, fra cui anche tutte le tecniche narrative. Diciamo che ho avuto gli strumenti e i mezzi per capire meglio il mondo delle aziende, il mondo della comunicazione aziendale e il mondo del marketing. La capacità di utilizzare le storie per raccontare un brand o un'azienda o una parte dell'azienda, cercando di portarla alle persone nella maniera più semplice. Mi occupo di coordinare una squadra di 11 brand ambassador in tutta Italia, che si occupano di un brand specifico che è Malfi, che è un jean super premium, e quindi gestisco tutta la parte marketing di questa squadra, tutta l'operatività, la logistica e, insomma, il day by day. È stato sicuramente Open Indoors, che è il momento di chiusura del biennio. Come momento singolo sicuramente la consegna dei diplomi è un momento molto forte, molto filmesco, molto americano. Credo sia stata sicuramente Open Indoors. Quei cinque minuti di pitch, c'è chi lo ricorda bene, per me è stato... è stato un bellissimo momento, ma anche un momento complicato arrivarci e poi performare in quei cinque minuti, che insomma avevano un valore abbastanza alto sulla chiusura di quei due anni, davanti a 250 persone che erano lì fondamentalmente per ascoltare solo ed esclusivamente quello che stavo dicendo. Tanti stimoli, sicuramente tanti stimoli e tanti spunti, e credo di aver trovato tantissimi stimoli e tantissimi spunti. In generale, non per forza strettamente legato a un percorso professionale, ma proprio in generale come uno decide di vivere la propria vita ogni giorno. E sicuramente credo che il valore aggiunto della Holden per me sia stato questo. Aprire gli occhi su un mondo che è tanto grosso e che è difficile esplorare tutto, la Holden è una buona mappa per farlo.